benvenuti benvenuti cioè bentornati perché questa cosa caffè io l'ho iniziata penso due mesi fa e stavo registrando con una canon m50 oggi invece sto registrando con lei che è una gopro no non è vero è una dj osmo action e oggi ospiti perché oggi farò un'intervista a lei perché vi voglio far dire direttamente da chi effettivamente poi ha attestato con mano anche se testato no perché al massimo fatto ciao in lei ma prima aldo ricci presenta pausa caffè pausa caffè girano i video di aldo ricci l'altro pacco è questo e potete tranquillamente leggere potete leggere il nome voi mi direte perché t'hanno mannato a te i robot perché si comanda con alexa e tutto ciò che si comanda con alexa io lo devo provare ai robot rumba i7 che è una figata mostruosa però questo allora dovremmo essere a fuoco e andiamo a fare l'apertura di questo mega pacco della rumba i7 plus macum e brava dentro c'è l'idea di dio di roba inizierei con continuare fuori questo che credo sia rumba poi qui c'è altra roba che sono c'è veramente tanta 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 roba ragazzi allora io lo chiuderei un attimo questo iniziamo a capire questo qua questa qua dovrebbe essere la torretta senza dovrebbe questa qua è la torretta come si spunta questa qua è la mega 90 è grosso questa qua è la torre di scarico mentre che qua abbiamo qui abbiamo le istruzioni che ci spiega un po come farlo funzionare e qui abbiamo la belva guarda che bella certo fuoco era più bella ancora ecco bella molto bella allora qui non c'è altro è appena tornata alla base dovrebbe aver finito teoricamente il secondo giro quello che va diciamo impostare la la mappa etichetta quindi spazio in modo che rumba possa pulire stanza per stanza ok va benissimo allora evidenza stanze perfetto nome stanza questa acqua la chiamiamo camera da letto ok vediamo se funziona alexa chiede a rumba di pulire la cucina dovrebbe andarsene di là se se ne va di là è giusto dove vai dove vai in cucina in cucina non sbagliare top chiede a rumba di tornare alla home sta tornando a casa ragazzi voi avete capito che con questo sistema voi dovunque state in qualsiasi parte del mondo avviate pulite fate sta tornando vieni 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 torno alla base dai top adesso sentite una volta che trova la base andrà a scaricare quello che ha già pulito allora per fare un po di test visto che stavano arrivare facciamo un po di così poi buttiamo un fiorellino è una figa secondo me è stata una figata avere due mesi lei a casa è stata le dico lei perché rumba è la mia amante ma comunque è stata sono stati due mesi fighissimi sotto perché fa tutto da sola una volta che l'avete programmata cioè programmata una volta che l'avete avviata la prima la prima volta che l'avviate farà tutta la mappatura farà tutta la mappatura di casa dall in poi voi andrete a dividere le stanze e da lì in poi io per esempio con alexa li posso dire alexa attiva rumba e poi lei mi chiede quale stanza vuoi pulire che ne so il bagno la cucina oppure come ho fatto io ho programmato le varie fasi giornaliere settimanali della pulizia praticamente per due mesi noi non abbiamo avuto polvere in casa lo approviamo la consiglia le casalinghe perché ridi quindi la consiglio la consiglio anche perché la fantastica cosa che non bisogna svuotare il cassetto della polvere il sacchetto quello che solitamente sta qua in questo caso sta qua e lui in automatico soggetti che soffrono d'allergia come me non hanno problemi di proliferazione di polvere ulteriore poliferazione asia fai ciao a tutti ok quindi la guarda ok perfetto però è un prodotto che costa sappia eh lo so tutte le cose che costano sono di qualità come all'orice ci vediamo alla prossima pausa caffè ciao girano i video di Aldo Ricci